Io sono concentratissimo sulle cose da fare, come ha visto, che sono tante. La decisione è naturalmente una decisione che prenderò più avanti con calma e tranquillità. Non scopre ancora le carte Giorgio Del Ghingaro in merito alla sua ricandidatura a sindaco. Ospite di Botta e Risposta, in diretta su Noi TV, il primo cittadino di Viareggio è preso ancora tempo, prima di sciogliere la riserva, per la corsa al mandato bis, a dispetto dei segnali lanciati di recente dalla sua pagina Facebook che lasciavano intendere una probabile ricandidatura. E ancora una volta sembrano proprio i rapporti con il Partito Democratico di Viareggio, il suo ex partito, il nodo da sciogliere, mentre la partita sulle regionali appare ormai chiusa, con il centro-sinistra pronto a candidare a governatore il presidente del Consiglio uscente, Eugenio Gianni. I rapporti sono questi, sono rapporti corretti dal nostro punto di vista. Io dico sempre, noi stiamo governando con 5 liste civiche. Come dicevo 5 anni fa e come ho sempre ridetto in questi 5 anni, noi abbiamo un programma. Questo programma è stato votato alla fine dai cittadini e noi lo stiamo adempiendo. Se qualcuno vuole stare con noi, le nostre porte sono aperte. Basta dircelo, ci mettiamo a un tavolino e discutiamo. Modifiche, integrazioni, suggerimenti, siamo a disposizione. Però ecco, la nostra Costituzione è civica e ci teniamo che rimanga tale. E nel PD di Via Regia? L'assemblea del partito Via Regino, nelle settimane scorse, aveva stabilito un'altra strada, con un candidato proprio, sostenuto non soltanto da IDEM, ma anche da altre realtà, civiche e non, di centro-sinistra. Questa ad oggi è la nostra linea, commenta a caldo il segretario Leonardo Betti. Staremo a vedere. Sul fronte centro-destra, invece, è atteso entro Natale un nuovo vertice provinciale tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, dopo il primo inizio novembre che ha sancito il ritorno alla vecchia coalizione unita. La ricerca del candidato unico al momento sembra ferma su due ipotesi, quella del consigliere leghista Alessandro Santini, già candidato sindaco nel 2015 e gradito al carroccio, e quella di Alessandro Meciani, imprenditore via Regino e dirigente nel settore delle assicurazioni, sostenuta da Forza Italia.